ben trovati amici di tech different e iniziamo questo unboxing come vedete c'è anche la mia gata facci compagnia piace anche a lei il decoder nuovo disc iq anche senza averlo visto ma bando le ciance andiamo ad aprire la confezione decoder nuovo disc iq che ci permette di vedere oltre che tramite il cavo della parabola anche via fibra ottica quindi se abbiamo la fibra ottica possiamo collegarlo tranquillamente andiamo a toglierlo dalla sua scatola principale poi vediamo gli accessori in dotazione vedete il logo sky rilievo nella parte superiore anche nella parte frontale nella parte inferiore troviamo quattro piedini vedete com'è bello areato la griglia per areare il decoder abbiamo tantissimi ingressi ovviamente primo ingresso il tastino reset poi abbiamo l'ingresso per ovviamente collegare la rete elettrica l'ingresso usb un ingresso hdmi c'è un'uscita più che altro hdmi l'uscita audio ottica l'ingresso ethernet due ingressi per l'antenna satellitare e uno per l'antenna normale per vedere il nostro digitale terrestre vi ricordo che questo decoder ha un terabyte di memoria quindi possiamo registrare qualsiasi cosa poi andando a vedere un po più nel dettaglio molto leggero e su un lato c'è un etichetta che adesso vedete che non è da togliere per quanto riguarda invece gli altri accessori ovviamente abbiamo tutte le guide la kickstart guide classica abbiamo andandoli a togliere le due batterie per il telecomando che le appoggiamo un attimo qua il telecomando in questo sacchettino andiamo a toglierlo il telecomando che vi ricordo è vocale alla ricerca vocale quindi possiamo cercare qualsiasi cosa ma poi lo vedremo più approfonditamente nella nostra recensione molto minimal ma bello abbiamo il tasto anche per registrare contenuti eventualmente se ci interessa di registrare e vedere più tardi qualsiasi contenuto il vano delle batterie le mettiamo dentro subito così almeno ce le leviamo di torno non le teniamo in giro e vai l'abbiamo messo dentro eccoci qua andando avanti con i cavetti abbiamo il cavo ethernet per collegarlo al nostro modern router il ovviamente andiamo a togliere il cartone abbiamo il cavo hdmi proprietario di sky quindi per collegare al nostro tv la presa e che va collegata a presa ovviamente classica e questo è l'alimentatore in pratica che va collegato al nostro decoder sky q bene io direi che ho finito per questo unboxing di questo dispositivo decisamente minimale qui lo vediamo bene con tutti gli accessori e accessori compresi nel pacchetto quindi andremo ora a testarne tutte le funzionalità la configurazione iniziale che presumo sia molto molto semplice ci tengo a sottolineare che questo decoder è possibile utilizzandolo anche senza parabola se avete la fibra ottica basta attaccare il cavo ethernet ed il gioco è fatto bene non mi resta che ringraziarvi salutarvi e rimandarvi al nostro prossimo video ciao a tutti e buona giornata